Se un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, noi siamo sognatori. Capaci di cadere, ma con la forza morale di essere uomini. Quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa comprendere, che trasformiamo in forza ed energia. Amiamo la semplicità che si accompagna con l'ubiltà. Ci piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Questo è lo spirito semplice della gente come lui, lo spirito semplice della furtitudine. Grazie.